Allora, noi parliamo di GiocaGin, lo facciamo con Tiziano Pesce, buongiorno. Buongiorno Sandro, buongiorno a tutti e tutti i radioscoltatori di Radio Uno Sport, grazie dell'invito. No, è un piacere, anche perché insomma GiocaGin è in qualche modo la prima, no, delle grandi manifestazioni che tradizionalmente sono nell'anno per l'UISP. Tra l'altro c'è quest'anno questa dedica che continua e continuerà a esserci anche per vivicità e quant'altro a Gianni Rodari, perché insomma personaggio di grandissimo spessore, anche perché da molto si è dedicato ai più giovani, no, al di là delle sue fiabe, del suo modo di porsi e del suo scrivere, anche proprio come figura umana. Gianni Rodari, come dire, sarà già da GiocaGin una figura che accompagna le vostre attività? Assolutamente sì Sandro, una manifestazione GiocaGin con questo grande nostro sottotitolo, il divertimento in movimento, giunta la trentatresima edizione, che di fatto come anticipavi fa partire quella che poi sarà la nostra grande primavera dello sport per tutti, con vivicità, vicincità su tutte, manifestazioni che come Radio Uno Sport seguite da tantissimi anni. GiocaGin nasce ovviamente come rassemia dedicata alle ginnastiche in tutte le forme, quindi dalla ginnastica artistica, acrobatica, ritmica, acrogym e quant'altro. Negli anni si apre, diventa una rassegna multidisciplinare e saranno veramente tante le discipline che a partire dal prossimo fine settimana vedremo in tanti palazzetti fino ad arrivare a giugno, saranno oltre 50 i palazzetti dello sport in tutta Italia e dal nord al sud ad essere coinvolti, quindi oltre le ginnastiche anche il pattinaggio, discipline orientali, danze, ballo, tantissime coreografie. Una manifestazione che mette insieme tutte le età della vita, quindi avremo partecipanti dai bambini ai meno giovani e una manifestazione come tutti gli anni che mette insieme ovviamente i valori dello sport praticato, i valori dello sport per tutti, con la solidarietà e quest'anno come dicevi giustamente una dedica per noi veramente speciale. Di fatto sarà un anno ovviamente che coincide con il centenario dalla nascita dell'indimenticabile Gianni Rodari e un po' tutte le nostre iniziative saranno dedicate alla sua memoria con un Gianni Rodari, forse nella sua parte diciamo meno conosciuta, un grande sportivo e anche nella sua letteratura ha dedicato ampio spazio allo sport. Tra l'altro con GiocaGin che riporterà su tutti i materiali promozionali, anche su tutte le t-shirt che utilizzeranno i partecipanti, questa frase, questa citazione di Gianni Rodari sbagliando si inventa perché Gianni Rodari sostenne sempre l'importanza e anche il valore acquisito nell'errore quindi anche qua un link molto diretto con tante nostre iniziative. Gianni Rodari tra l'altro scrivesse proprio un libro intero dedicato agli errori affermando che appunto gli errori sono necessari, utili come il pane, spesso anche belli, ricorda per esempio l'errore della fantastica, fantastica errore della torre e della torre di Pisa e allora dal proverbio conosciuto sbagliando si impara, Gianni Rodari ci ha insegnato che il nuovo potrebbe essere anche sbagliando si inventa e come noi del WISP sempre portati con le nostre associazioni, con i nostri soci a sperimentare nuove pratiche, a sperimentare nuove vie, a mettere via paure, a mettersi quotidianamente in gioco. Insomma va detto anche che l'aspetto ludico è fondamentale nel crescere dei bimbi in particolare in ambito sportivo, insomma le attività dovrebbero essere sempre ludico-sportive almeno fino a una certa età, no? Prima di declinarsi anche nelle pur minime iniziali embrionali forme di agonismo. Assolutamente Sandro, infatti gioca Ginn è proprio una manifestazione assolutamente ludica assolutamente giocosa, non competitiva, aperta a tutti e quindi ecco ci sembrava veramente doveroso aprire la stagione delle grandi iniziative con questa dedica particolare, anche una volta Gianni Rodari che ci ha insegnato appunto il gioco, il sogno, proprio dedicato all'immaginario dei bambini. Sì anche perché lui tra l'altro non si ricorda quasi mai, no? Lui scrittore, giornalista, poeta, però anche pedagogo e lo era con tutti i titoli nel caso. Assolutamente, assolutamente. Tra l'altro diciamo che noi come UISP oltre a ricordare la sua grande figura diciamo abbiamo un po' di debiti ecco nei suoi confronti perché la nostra associazione ha incontrato Rodari in molte occasioni negli anni diciamo che insieme a lui ha smontato e rimontato potremmo dire così i meccanismi dello sport esattamente come ha fatto lui appunto nella sua destra di pedagogista con la favola. Infatti lui genera una grammatica della fantasia che poi per l'UISP oggi Unione Italiana Sport per tutti ma già allora Unione Italiana Sport popolare è inventata potremmo dire una nuova grammatica dello sport soprattutto del corpo, della pratica sportiva intesa come diciamo movimento, quella che poi oggi chiamiamo sport sociale, sport per tutti, sport di cittadinanza. Poi io da Genovese e da Ligure sono particolarmente legato a Gianni Rodari perché Gianni Rodari partecipò di fatto ai primi momenti di vita dell'associazione anche sul territorio Ligure perché nel 1950 solo due anni dopo la costituzione dell'UISP, lui già giornalista, dirigente dell'API, l'associazione Pionieri d'Italia, partecipò vicino a Genova sull'alto piano della Madonnetta nel comune di Cogoleto all'esperienza del campeggio internazionale della gioventù, come sai organizzato da Rigo Diodati, il partigiano Franco, l'unico sopravvissuto nel marzo del 1945 alla strage antifascista di Cravasco nell'immediato entroterra genovese e quindi in quel campeggio ci sono ancora appunto persone che ci raccontano di quell'esperienza. La sera di fatto intorno al fuoco si riunivano ragazzi e ragazzi provenienti da tutta Europa proprio per ascoltare le favole, le sue prime favole di Gianni Rodari che ovviamente in quegli anni trasmettevano valori di libertà, antifascismo e solidarietà. Sì ma non solo, anche perché lui ha avuto una vita particolarmente variegata, ha cambiato tante cose, il suo babbo lo faceva al fornaio, poi anche lì, siccome viene lasciata la bottega al fratello lui deve fare altro, lo mandano in seminario e si accorgono che non è il caso, poi le magistrali, poi cambia ancora, è un uomo che ha mutato molto e allora quello sbagliando si inventa, probabilmente si lega anche al suo percorso personale, a parte che è una penna di quelle come dire rare, semplice ma efficace, le sue favole sono fantastiche, insomma ne hanno fatto, quello che ha scritto è diventato anche molto altro, adesso penso alla freccia azzurra che è uno dei cartoni animati più essenziali che nasce da quel racconto così particolare legato a un'Italia che oggi non è più o meglio, non era più fino a qualche tempo fa magari potrebbe tornare. Ecco, insomma il senso profondo di tutto questo del vostro lavoro e del giocagine che tra l'altro ricordo saranno 14 giusto le città in Italia? 14 le città coinvolte nel prossimo fine settimana, di fatto si apre una lunga stagione che ci porterà fino al mese di giugno a coinvolgere oltre 50 palazzetti in tutta Italia, tra l'altro nel prossimo fine settimana una tappa estremamente per noi molto importante perché per la prima volta anche Sidoni in Libano nel campo profughi di Ayn El Ewi sarà coinvolto e ospiterà una tappa di giocagine perché poi ovviamente giocagine avrà un'attenzione particolare quest'anno alla solidarietà, alla solidarietà internazionale perché anche quest'anno ribadiremo il sostegno dell'associazione ai bambini e ai ragazzi che vivono nei campi profughi palestinesi del Libano porteremo avanti il progetto iniziato nella scorsa annualità a sostenere la fondazione culturale Canafani per l'acquisto di un minibus che servirà per trasportare i bambini con disabilità di cui la fondazione si occupa. Quello è il campo tra l'altro profughi più popolato e problematico del paese, ospita circa 60 mila rifugiati palestinesi registrati a cui negli ultimi anni a seguito della situazione siriana si sono aggiunte moltissime famiglie siriane, oggi è un campo profughi che ospita oltre 120 mila abitanti e quindi va avanti ovviamente il rapporto tra l'ISP e la fondazione Canafani che attraverso la cooperazione internazionale si è sviluppata negli anni e al di là di questi momenti importanti ma che poi rappresentano un po' il simbolo dell'intervento va avanti anche e soprattutto e ovviamente anche qua il link con Gianni Rodari è molto pertinente, tutta l'attività anche di formazione che viene svolta, viene tenuta dai nostri educatori WISP, dai nostri volontari che ogni anno partono da tanti nostri comitati territoriali e vanno a fare formazione proprio diretta agli operatori e alle operatrici dei campi profughi. Sì, poi l'altra cosa bella è che molte delle città scelgono un tema, adesso stavo guardando per citare soltanto un esempio che insomma a Rosignano, Solveche in provincia di Livorno perché non lo sapesse, per esempio... Sì, attenzione al bullismo. Sì, ma attraverso forme di equilibrio e coordinazione che come concetti astratti si possono declinare in molti modi, scelgono tra gli altri modi quella delle slackline che sono quelle fasce un po' larghe su cui si fanno vari numeri ma certamente in cui c'è bisogno di equilibrio, coordinazione e anche un po' di concentrazione su quel che è necessario nel momento. Sì, quando diciamo prima proprio ogni anno i nostri comitati sperimentano nuove pratiche e anche oltre diciamo alle più tradizionali che citavo poc'anzi anche tante attività particolari per esempio ricordo che a Grosseto saranno previste esibizioni per esempio di discipline orientali con la spada antica, a Civitavecchia sempre nel prossimo fine settimana ci sarà un flash mob che coinvolgerà quindi non solo i praticanti e gli atleti che si esibiranno sul piano palestra ma anche tutti gli spettatori sul tema dei diritti, quindi ecco veramente tante tante iniziative che faranno ancora una volta dello sport per tutti uno strumento importante di promozione di benessere, socialità e diritti. Insomma ricordiamoci che come simbolo avete scelto una piccola foca che parte da un igloo improbabile per la foca. Esatto, una piccola foca ginnasta che accompagnerà grandi e piccoli in questo lungo tour. Allora Tiziano, grazie infinite e che sia un buon gioca gin per voi e per tutti quanti come al solito molti parteciperanno nelle 14 città in cui questo accadrà. Ciao Tiziano, grazie. Grazie a tutti ancora una volta.